Prima di iniziare il video vi invito a seguirmi su Instagram, reggiquit-dusty. Ogni giorno parleremo di calcio, musica, decideremo e soprattutto scriveremo tante parodie insieme. Mi raccomando, seguitemi, lascio il link in descrizione. Vi lascio alla parodia, ciao! Davvero no, non ne sbagli una, in mezzo al campo non hai paura, no. Diretti, ne ho piste appalate, queste tue giocate non finiranno proprio mai. Adesso hai raggiuntosi un bel traguardo che per chiunque sarebbe tanto e tu ti sa anche chi segna è Ronaldo. Segna è Ronaldo, dalla Juve fino al Portogallo E poi quante emozioni ci regalerà Settecento reti qui per te Segna è Ronaldo Corre sempre come fosse un leopardo Sono senza parole innanzi a questo campione Oh, 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 chi segna è Ronaldo Chi segna è Ronaldo Non me lo spiego come ogni volta la massima forma è Ogni suo tocco è sempre indescrivibile Quando scende in campo senza un controtempo La sua rete sempre aspetterò Chi segna è Ronaldo Segna è Ronaldo Dalla Juve fino al Portogallo E poi quante emozioni ci regalerà Settecento reti qui per te Segna è Ronaldo Corre sempre come fosse un leopardo Sono senza parole innanzi a questo campione Oh, 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 chi segna è Ronaldo Chi segna è Ronaldo Chi segna è Ronaldo Non ti ci mettere anche tu Oh, 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 oh Peggio di un ritorno Oh, 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 oh Oh, 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 oh